Ciao ragazzi, eccomi qui dove eravamo rimasti l'ultima volta Allora, quello che vorrei fare oggi è Andando su survival, dovevi trovare... No, cosa dovevi trovare? Niente Cos'è questo? Hitstone Effettivamente ora non è che mi serva tantissimo la hitstone Mi serve per l'inverno la hitstone Quindi questa di per ora non la faccio Perché ciò che volevo fare era luxury hacks Ma vi rendete conto? Cioè... Io direi... cose interessanti Guardate che meraviglia Quante sono belli questi Scary pickaxe Scary pickaxe? Perché ha questa forma? Perché la forma della so io? Babini No, questi non li uso Questa è la mod che ho installato io Quella dei scary tools Allora, quello che volevo fare era su Fight Non era su survival Era su... dove era? Non era fight Era quello per... Puff, devo catturare qua Allora, dove ho fatto la trappola per i conigli? Qua, ok Quindi questa Bird trap Però bird trap mi cerca farla ora Perché non avrebbe molto senso Quindi... Volevo fare la bird trap effettivamente Però non avrebbe veramente tanto senso Quindi io direi Che farei... Allora, qualcosa che non ho mai fatto io nel corso della mia vita In... 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 Don't starve Cosa potrei fare? Cosa potrei fare? Poco cosa potrei fare? Io dovevo lasciare passare la notte in teoria Vabbè, piggyback Ma che figo Ragazzi, che figo A lot but slow you down Ah, posso interpretare tante cose Però mi rallenta Si sono andato Sto improvvisando Si vedo che si nota Quindi, football helmet Allora, io per ora Lascio passare È la notte Vorrei fare un pochino di qui all'address Ecco, ecco cosa volevo fare Ecco qua Dicevo, ma è magic Allora, vorrei prendere 4 conigli E un board Il top hat ce l'ho L'ho messo qui Ok 4 conigli La trappola ce l'ho perfetto Ho anche le esche Le esche sono qui Ho solo 3 carote Però non va bene per niente Io cucino un po' di questo Che sta andando a male Quindi cucino tutto Un po' Cucinamolo tutto Perfetto 5, 4, 3 2 1 E 0 Miamo tutto E mangiamo Mangia tutto Mangia tutto Mangia Perfetto Ok Andiamo a curare qualche coniglio ora Che c'è la distesa di conigli Esattamente qua Ok Quindi avrò un po' di strada da fare Pure in mezzo ai ragni Allora Vediamo cosa posso fare No niente posso andare Perché le cose che mi servono da craftare Le ho già sbloccate Non ho bisogno del motore alchemico O della macchina della scienza Quindi andiamo avanti Di qua Perfetto Ah c'è il sentiero Aia Aia Aiutami 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 Bravo maiale Bravo maiale Bravissimo Bravissimo Bravo Grazie 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 mille Sei un amico davvero Grazie Sei un amico Vieni qua Vieni qua Ti meriti questa Tieni Non ne vuoi Io ci ho provato Allora Mettiamo Posso andare anche qua Non mi do allontanare per forza Allora Prendo questa trappola La metto qui E ci metto una bella carota Come esca Perfetto Ora mi allontano io E inizio a prendere altre carote Prendo questa La c'è una disgraziata rana Una disgraziatissima Allora Vediamo se un coniglio ci sta avvicinando o no Allora siccome lì ho visto un coniglio che già era uscito Perché cammina così Per quale motivo Cioè spiegami Allora Qua c'è il coniglio Perfetto Quindi posizionare la trappola qui Più o meno Sì che tanto non scappa Ok Posizionare io un'esca Beh Ok E me ne vado Dai Avvicinati 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 bello Avvicinati coniglietto Dai Sto frenendo per averti Dai Muoviti 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 Dai Silenzio Silenzio ragazzi Sì Silenzio Perfetto ragazzi Mio mio Prendilo Prendilo Ah Ok Si è consumata un pochino la trappola Allora Vediamo un altro coniglio Posso trovarli Cerchiamo in giro Qualche altro Eccolo là L'ho visto L'avete visto anche voi Allora Posiziono la trappola qui Metto l'esca No Non mangiare Non dropparle Devi metterla come esca Ecco Perfetto Allontanati Nel frattempo Prendi altre Altre carote Che già ne hai mangiata una E non era per te Quella carota Questo Vediamo un pochino di questo Berry Bash The Berry Bash No Questo è Berry E basta Berries Mi devo lontanare da queste rane Ci sono cattive Non pensavo fossero così cattive Allora Il coniglio avrà sicuramente Eh No Ha boccato però Se l'ha caduto in trappola Ok Posso rimetterlo Vero Posso No è scappato via È vera e verità Non è che puoi essere così Spaventoso Scantolino Allora Posiziona E mettiamo un'altra carota Ne saranno altri due conigli Bait Perfetto Mi allontano No Non ti rischiare Non ti rischiare Tacchino Tacchino Vattene Vattene Vai coniglio Vai tu Vai tu coniglio dai No 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 Ho ucciso il tacchino Ho ucciso il tacchino Non ci credo No mi sembra Eh allora Questa è la sensazione più bella Che io possa aver mai avuto In tutta la mia vita È morto il maiale È morto il maiale Che è successo Ma no È morto il maiale Allora Tutto il cibo Io lo sposterei di qua Tranne E va perché È giro Ok Tranne le carote E lag 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 Tanto qua altre carotine Non ci sono in giro Altre carote Carote Non ci sono carote Non ci sono carote Allora Ho altri tre Quindi No ci sta facendo notte No dai Allora Che succede I ragni I ragni Dove sono i ragni Di qua Me ne vado Me ne vado Tranquilli Me ne vado Non vi do fastidio Non è là sopra Allora Questo cos'è Una torch Perfetto Una torch Non fa mai male Una torch Tendiamo un po' di tutto questo Guardate che bello Guardate che bel ragazzotto Cioè non vi sta Tanto simpatico A me già sta simpatico Tendiamo un po' di questo Ok Allora Qua i conigli Dovrebbero ancora esserci No Perché non penso Scappino via Per la notte E a quanto pare Scappano via Per la notte A quanto pare Scappano via Allora Io devo tornare Dove Praticamente Qua sotto Ah Per contare Ecco perché Non capivo Ok No dai Basta Ok Io ero qua prima Quindi Devo tornare di qua Avevo girato la mappa Non me ne ero reso conto No perché una volta Tantastrape aveva solo 4 direzioni Ora invece ne ha di più A quanto pare Dove fare fino a 8 direzioni Abbiamo anche Gli angoli di 45 gradi Quindi Torni Torniamo Io andrei a dormire Ora perché vorrei dormire No no Non ho bisogno di dormire Perché già ho abbastanza fame Dovete sapere Che voi potete anche dormire Potete creare la branda Solo che ha Un vantaggio E uno svantaggio Allora Un paio di vantaggi In realtà Il vantaggio è che passa La notte subito E dopo che passa subito La notte Eppure vi trovate La sanità mentale Veramente molto aumentata La cosa brutta È che Ho perduto un sacco di fame Cioè la barra della fame Si abbassa drasticamente Io questo di quello Vorrei buttare Da Ghirlando Perché ormai Non serve più Allora Dov'è? 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 Sono arrivato Ok Devo seguire qua Ah A me i semi Non dobbiamo la mia cultura A che punto è Ah No niente Non ho lasciato semi La mia cultura È che punto Guardate come cresce Allora Io brucierei questi di qua Questi fiorellini E dopo farei Io aggiungerei Il calc No calcone Questo Un po' di fuori Ok Perfetto Allora Io qua ho Quanti conigli? Due no? Si Uno E uno due Perfetto Ora Io metto qua Ordino tutto l'inventario Ordiniamo per bene Per bene Senza lag Possibilmente Aiaiaiai Questo va qui Perfetto Ordiniamo Questo non so cosa sia Spider Spider Ma che cos'è? Cioè non lo capisco Non lo riesco a comprendere Quindi esiste Una melanzana L'avete visto? È appena nata una melanzana Nata Certo Nata Perché tutti sanno Che il cibo nasce Dalle Dai Ok Allora io vorrei cucinare Due di questi Cioè Vi rendete conto Guardate qua Guardate qua Questo è perché Quello disgraziato Del tacchino Doveva mangiare le mie cose Alla faccia tua Tacchino disgraziato Ok Io questi non li vorrei cucinare Perché mi abbassa la sanità mentale Anche se Mi abbassa anche la vita In tutto ciò Allora Io aggiungo un po' di fuel Qui Devo prendere un po' di legna In tutto ciò Quindi io metterei la trappola qua Questo qui Perfetto Ok E questo niter qua Ok Anzi Ancora meglio Questo metto qui E questo qua Ora Quello che volevo fare io Per il food era cucinare Crock pot Vorrei fare questo E carcol però ne ho poco No? Ah Sì questo è il crock pot Quindi carcol ne ho poco Però posso fare le cut stone E neanche Allora il carcol velocemente Come si può fare? Allora devo andare io Nella foresta vicina Però io direi di aspettare la notte Ora Posso fare la branda? No Full roll Cos'è full roll? Sleep to the night in comfort Ah E questo cos'è? Bunny puff Uh Io posso usare questo sui conigli Fatemi capire Comunque Allora Torniamo su Torniamo su Ok Dov'ero? Allora Ero più o meno A No Healing Salve Guarda cosa è questo Disinfectant For cut Embrasion Ecco cosa può servire Proviamo a farlo Tanto non ci perdo niente Ok Proviamo Survival Questo di qua Cosa mi spreca? Ah non si può fare Ok Ah mi dà 20 di vita Perfetto 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 Usa Ok Ma a questo punto Ne faccio anche un'altra Scusatemi Ma a questo punto Ne faccio altri due Anzi Tanto non ci perdo niente Ah Fantastico Non lo sapevo questo Bene Questi mi li poso qui Ora Questi mi li metto qua Da parte per la vita Quando perderò un po' di vita E Intanto vado a fare un po' di legna Metto la bella accetta che ho Perché non ricordo di averla Ah ecco di qua Ecco qua Posso Usarlo? No Quando Non posso farlo quando è sveglio Cioè di notte devo farlo E vabbè Facciamolo di notte Io non mi vorrei radere per ora Perché vorrei aspettare un pochino Che mi cresca la barba Perché a quanto pare Più cresce la barba Più pezzi mi dà Più 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 ciò che di barba mi dà Allora Prendiamo un po' di legna Ok Ma è pochissima però Peccato Io adesso pianto Perché ho 30 pigne Posso piantarle qua Ok Intanto mi imbassassi a destra C'è un Un cielo Indemoniato Allora Io pianto un po' di queste Sì così posso anche Avere Questi alberi che mi danno le pigne Tante farm Tante farm No 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 Allora Piante qua Pianta Pianta tutto Pianta Perfetto Pianta tutto Così Dovevo una foresta fatta da me Una foresta personale No Facciamo L'impianto altri 4 Così arrivo a 15 Nell'inventario Ok Ora Io andrei qua Rompere questo Faccio un altro Pignone di legna E dopo Appicco il fuoco Perché vorrei un po' di carcoval Allora vediamo Però se non appicca il fuoco a tutto Cioè Non vorrei che appiccasse il fuoco a tutta la foresta Ehm Mi metto qua Passatemi qua Sì Allora Vediamo che cosa può dare fuoco Cosa può dare fuoco Mi metto Cos'è Cos'è Oddio Cos'è questo Marble tree No 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 Non c'è andare I don't think Anx will cut it Ok Eh questo ce l'avevo pure io Walk tomorrow Portilla Che cos'è questo E questo cos'è No ragazzi Che cosa sono Oddio No non ci vado lì Ora non ci vado Non sono pronto Anche perché morire In questo istante Non sarebbe La cosa più adatta Voglio dire Nella mappa Come mi spunta Nella mappa Come mi spunta Boh Mai incontrati Non so cosa siano Totalmente Boh Incredibile Non ci posso credere Ora vorrei Eh dai Taglia Taglia Ma perché non taglia Ah non ho Conso Eh perché Ah si è rotta Ecco perché Si è rotta L'accetta Dai Taglia 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 Tutto Perfetto Prendi tutto Ok mi sposto di qua Guardate un coniglio Posso utilizzare il trucco Della trap Trucco C'è fatto dal gioco Non un trucco Ok Metto una bella Esca Ok Nel frattempo Appena finisci Io do fuoco a questi Appena cattura Il coniglietto È una parte Un po' noiosa Questa Lo so A parte quella scuerta Di poco fa Dai 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 coniglietto Dai coniglietto Vai Perfetto Bravissimo Coniglietto Ora Prendo qui E Light Light Perfetto Allontaniamoci Allontaniamoci Io vorrei Non vorrei Che mi desse Solo Come si chiama Non vorrei Che mi desse Solo la cenere Di questi Io vorrei Tutto il carcual No Non potrei Verlo Ok Posso romperlo Quindi Sì Mi dà il carcual Perfetto Perfetto Prendi tutto il carcual Che puoi Oh sì Ma stai prendendo fuoco Qualcos'altro Per capire Oddio 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 No 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 Tu da dove spunti Tu da dove spunti Tu da dove spunti Ehi Ehi Oh Dove spuntate Allontanatevi Allontanatevi Andiamo dai cinghiali Là Che cosa sono quelli Che mi aiutano Andiamo da quelli Ma non Dove sono spuntati Cioè Che ci fanno qua Non c'entrano niente Vai Attacca No 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 Che c'entrano Ecco cos'era quel suono Io non capivo E' morto Ok Allontaniamoci Muori 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 Ok 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 Mi curo Curati Ma che cosa è successo Cioè da dove sono spuntati Oh mamma Oh mamma Allontaniamoci Non ci posso credere Io non ero preparato Psicologicamente A questo incontro Oh mamma mia Allora Io vorrei fare In tutto ciò Anche un bel frigo Così posso tenere Il cibo No no Non prendere fuoco Non prendere fuoco Lo sapevo Lo sapevo Comunque sono a sei Posso tornare a casa Ok casa mia E' di qua Qua sotto Questa alla mano Oh mamma mia Scusate Mi devo ripeto Ma perché Tutte a me Capitano queste cose Perché tutte a me E dove sono Di qua Ok Perché capitano Tutte a me Tutte Tutte E' nato qualcosa Cos'è Una zucca Cos'è pumpkin Si una zucca Uh che figo Allora io vorrei sapere Intanto Food Cosa posso fare Il Questo non lo posso fare No perché devo fare Tre cutstone Però L'icebox lo vorrei fare Ma non posso Perché mi mancano le gears Fantastico Quindi farei tre cutstone Io Di con refine Perfetto Uno Due E tre Ora vedrete che figata Metterò questo crockpot Qui All'incirca Qua Perfetto E guardate qua Posso cucinare Allora cosa ci metterò Io vorrei metterci dentro Il pumpkin La eggplant Cioè La manzana E ci metterei io Due funghetti Cioè Un funghetto E un fungo Blu Cosa mi cuoce Chissà Non ho mai fatto Questa combinazione Dimmi tu quando sei pronta Ok Nel frattempo Io Farei una cosa Intanto poso il coniglio Qui Perfetto Dimmi tu quando è finito Posso Qua le carote Ci vorrebbe troppo Le ghia Non so dove trovarle Ok Finisco Mangio questo E mi si che concluderò L'episodio Non prendere questo No 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 Eh No 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 Dai fuori Dai fuori Dai fuori Stavo morendo Non ci posso credere Stavo morendo Guardate lì Cos'è Cos'è questa figata Contumida 37 Stuffed the eggplant Stavo fatto male Cuocere insieme La eggplant E E l'altro Come si chiama E E la melanzana Cioè l'hagplant E la pumpkin Cioè la melanzana Ecco E l'altro insieme Allora io ci metterei Un po' di mitz Perché invece è troppo Questa cosa Carne con i funghi Facciamo Carne con i funghi Perfetto Carne con i funghi E Boh Una panno No Una panna Che ma tengo per top È un seme Tanto Per tutti i semi che ho Ah non mi fa mettere Faccio due funghi Allora Cook Facciamo Food E che cosa ho sbloccato Qui C'è qualcosa che posso fare Ah questo Ok Non mi interessa però Fish harm Lunchbox Crooked pot Deep freezer Questo sarebbe una cosa intelligente Complex machinery Chissà come si fa Queste cose Poi non ho idea Di come si possano fare Totalmente Sono sprovvisto Di conoscenze simili Io Ma In qualsiasi maniera Ok Nel prossimo episodio Vedremo cosa fare Finisce qua di cuocere Finisce di cuocere E vediamo cosa fare Nel prossimo episodio Va bene Allora Prendo qua Fertilizzo Fertiliziamo Un'altra melanzana Ok E nel frattempo qua Finito Le polpette di carne Vediamo Se sono Meatballs Contato 62 Guardate qua Tutto Tutto al massimo Fantastico Bene ragazzi Io sono l'onore Del team di Magvideorec Grazie per aver visto Questa puntata Di contestare E ci vediamo Alla prossima Ciao ciao